Stiamo andando al bar a bere. Ho tanta sete perché la mia colazione era troppo salata. Vuoi venire? Perché no? Voglio ordinare. Un caffè senza crema al caramello e senza panna. Ordini come mio fratello. A lui non piace la panna. Invece io la amo. Ho intenzione di ordinare un caffè latte con molta panna.